Lo sport è assolutamente un catalizzatore di quel valore dell'inclusione. L'inclusione per quanto riguarda la squadra è assolutamente qualcosa che va portata all'interno dei valori dello spogliatoio, del gruppo, come poi dopo alla fine si fa anche nell'azienda. Cerco di poter dare tutto il mio contributo per quello che può essere le mie esperienze fatte, prima da calciatore, poi da manager, da imprenditore. Io credo che oggettivamente e quotidianamente abbiamo l'opportunità tutti noi di poter includere qualcuno. Credo che siamo una società ormai che sta diventando sempre più multietnica, ma soprattutto ci focalizziamo molto anche su quello che è il mondo femminile dell'inclusione. Dopo la pandemia tante mamme, tante donne hanno perso il lavoro e oggi la possibilità di poter dare uno spunto, di poter includere all'interno di collaborazioni aziendali, credo che sia il focus principale di questo gruppo di lavoro.